Eccoci di nuovo qua, sono qui con la titolare di Impero Bomboniere, la signora Laura. Salve Laura, grazie per rispondere a questa nostra piccola intervista. Parliamo con il pubblico di Wedding Time TV, illustriamo a loro il suo lavoro, i suoi prodotti e cosa devono aspettarsi e cosa possono aspettarsi da lei i futuri sposi? Noi realizziamo prodotti artigianali, realizziamo richieste di spose, ci dicono il loro desiderio, noi riusciamo a realizzarlo. Proprio in questi giorni ci è capitata una richiesta particolare di una sposa, una pallina di Natale e siamo riusciti ad accontentarla, verrà fatto questo pacchetto particolare, come di nostra abitudine noi puntiamo molto sull'artigianale, sull'italiano e su un buon confezionamento. Quindi vi parlavi di diversi servizi, magari c'è la possibilità anche di spostarsi, lavorate solo in Emilia Romagna? No, lavoriamo in tutta Italia. Quindi se vi arrivano richieste anche da lontano voi li accontenterete? Sicuramente sì. Vogliamo magari parlare un attimo di qualche prodotto nel dettaglio, come lo esponete e come accontentate appunto le vostre spose? Noi le cerchiamo di accontentare un pochino in tutto. Si cerca di avere un buon rapporto con la sposa, di capire quelle che sono le sue idee, le sue voglie, i suoi desideri poi si studia assieme un piano e si realizza quello che loro ci hanno chiesto. E invece enfatizziamo questo vostro made in Italy? Soprattutto made in Italy perché comunque ci sono delle bellissime cose, abbiamo ancora degli ottimi artigiani e maestri e quindi si punta su questo, che è un oggetto che possa durare nel tempo e comunque sia sempre bello, che non venga cestinato perché comunque diventa brutto, si rovina. Si punta soprattutto sulla bellezza e la qualità del prodotto. Quindi ottime bomboniere qualitativamente, italiane al 100%. Napoletane, napoletane soprattutto. C'è qualche bomboniera, qualche esempio che vuole farci? Per dire puntiamo su dei sacchettini, tutto a livello artigianale con la possibilità di scegliere stoffe, colori, applicazioni oppure si punta sulla bomboniera in vetro, in porcellana, in cristallo con decori personalizzati, iniziali, svaroschi e cose simili. Perfetto, è tutto questo da Impero. Diciamo invece dove possono trovarvi? Chi vi cerca, esposi, dove possono cercare Impero? Lo possono trovare sui siti internet oppure a Felino in provincia di Parma. Va bene, da Impero Bomboniere è tutto, grazie mille. Grazie, salve. Salve.